Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ok, vorrei farmi anche il medikit ma non mi fido qua in alto, ottimo, nonno Adesso me l'ho spiegato Ma, ma Ma Morto Sniccia Porco dio, porco dio, porco dio, porca broia, porca madonna Calmo, 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 calmo Non esageri, non esageri, non esageri, lei che è? Lei il signor? Vostra madre puttana Abbiamo proprio un botto di gente dentro, lol Perché è tutto amici? Ma No L'accento un pochettino sul tendente dormiente E tutte le scappe stanno così, è fuori di testa Ma non va bene questa cosa che non le sta facendo molto bene glielo dico No, ma non mangerò più carboidrati prima di staccare la live, non esiste proprio Ah Domani ma Non ha senso Ci vediamo il re della pleba Ah ma io non so di cosa stiano parlando di tra di loro Ok andiamo Efo Per favore però Ma come non ce l'aveva? Per favore Io simovacca Benvenuto col prancio Perché mi sta stavendo il porco Bellissimo, fantastico Non voglio giocare a questo Faccio l'ultimo, faccio l'ultimo Ah che è meno male Extreme Fall Guys, tua madre puttana Extreme Fall Guys Ma vaffanculo, va Ma vaffanculo Extreme Fall Guys Cadi, muori Grabbano E ooooooooh Ma ti pare? Amato me Be 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 Amooo Ma perchè? Be 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 Surfing Ma Morocco Ha Ho Le arco dio no 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 piano 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 adesso mi sembra posso capire posso capire che c'è un po di piano 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 mi servono assolutamente cure white qualcuno c'è a me di chito bende io sono messo col culo per terra 36 ok mai gg c'è ancora qualcuno tutto pulito il tipo nella lobby pensa ah non lo so ma io tanto tutto si chiamano donne io non commento questa frase signori nel senso perché devo togliermi i peli sul petto bello siuda la per la qualità audio so come fixarla la pami ha il microfono quello che usa per i suoi per la sua cosa nel senso io dico la pavina grande cazzata dio povero alzati 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 cristo alzati no penso contro ha preso il condom sto sbagliando potrei non qualificarmi potrebbe essere porto di qualificato un pezzo 0 0 ciao cavallo pazzo ciao siamo il porto un attimo che c'è un 1 v2 devastante bravo fa una da comunque vada ciao daniele è tutto bene comunque vada let's go let's go oh mio dio e qui la classifica ragazze super interessante flow nada con 274 punti va a spodestino lorenzone e sono quattro per il lorenzo auge lorenzo sottolineatura il nome lorenzo potrebbe non aver senso ma da quando sono nato dico quello che penso dico quello che vedo mi guardo in giro utilizzo questo ritmo nero funky bruni carico di bassi su di luglio costruisco tinta si e frasi e storie strano e vivo poi la mano con la quali lo scrivo dammi la carica dammi l'energia molta cattiveria ostino me lo ricordo e mi sto allargando ma stiamo scherzando assurda differenze quelli simone and game come noi ci vogliamo in arena ma che vuol dire ma non bene quella né bravura quello lì è collezione perché se io non giocano promette come mai sì bravura scuso mi ha appena sparito l Gobierno realtor a liga roto cultura tutti povvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'ilvvvvvvvvvvvvvvvvogo ah in faccia un artefatto da pazzo e dire visto che c'erano bosca in pazzo non riesce a dirlo ancora pochi pochi anni di autonomia e festo su andiamo da 40 anni a fare così a cantarli ma come fai se fu andiamo a vincere f dai vai mai io sono troppo ingasellato per il c'era un bel posto che li facevano su un sacco di gruppi un sacco di culi anche niente mi rifano così ma tua madre quella strozza c'è bisogno dico solo 34 anni dico solo 34 anni